I Vescovi irrompono nella campagna elettorale. Prima l'appello ai cattolici, votate con giudizio, tenendo anche conto dei valori e delle persone presenti in lista, dice il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Bettori, che poi critica la legge elettorale. Va cambiata, quella attuale è oligarchica, dice. E i Vescovi incassano subito il plauso della destra. Bisogna reintrodurre le preferenze, dice Storace, d'accordo con la CEI, anche Gasparri del PDL. Giornata di promesse invece per i leader dei due principali partiti. Berlusconi assicura la mia ricetta liberale risolleverà l'Italia, mentre il candidato del PD Veltroni prima interviene su Alitalia, non deve fallire, dice, e poi torna a ribadire taglieremo gli stipendi ai parlamentari. E a proposito di stipendi e guadagni di politici, come ogni anno puntuale, arriva la classifica dei paperoni di Camera e Senato. Al primo posto si conferma Silvio Berlusconi, seconda la candidata premier della destra, Daniela Santanchè, e terzo a sorpresa il leader della sinistra arcobaleno, Fausto Bertinotti. Il più povero, si fa per dire, del Parlamento è il segretario di rifondazione, Franco Giordano.